Se noi invece dovessimo realizzare un nasino su un viso, ok? Allora, prendiamo la pasta di zucchero, ipotizziamo di avere il viso, ok? Così, ovviamente su un viso di queste dimensioni noi non possiamo andare a mettere un naso di queste dimensioni perché il naso praticamente è grande come il viso e quindi non ci sta il bene. Allora, con il manico del pennello ci mettiamo al centro e andiamo a creare il solco. Ecco, ciao Carla, buongiorno cara, ben arrivata. Ok, sempre con un po' di maizena o di CMC o di gomma dragante, insomma quello che avete, facciamo esattamente quello che abbiamo fatto prima. Ciao Mary, un bacio, ok? In questo modo, non è che cambi un granché. E' chiaro che adesso siamo sul piccolo, ok? Quindi diventa estremamente più difficile riuscire a lavorare solo con le mani, ok? Quindi prendiamo il pennellino e facciamo col pennellino la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima con le dita. Quindi in questo modo. Andiamo ogni tanto ad ammorbidire, così. E portiamo in basso la pasta. Perché? Perché come vi dico sempre e non mi stancherò mai di ripetervi, se voi schiacciate basta, non è che la pasta di zucchero sparisce, ok? Se io schiaccio la pasta di zucchero va dove? Dove incontra meno ostacolo, va bene? Quindi se invece che schiacciare io la ruoto, quindi sono io che decido dove la pasta di zucchero deve andare, ovviamente è molto più semplice, ok? Ugualmente andiamo a creare la forma e come abbiamo fatto prima andiamo a tirare un po' in su le narici, ok? Così. Una volta che mi sono trovata nella posizione ottimale, cioè con la forma ottimale, vado a fare come abbiamo fatto prima, quindi narice, alla stessa altezza, narice, sempre con il pennellino. Ciao Daniela, ben arrivata! Andiamo a lisciare i contorni, ci andiamo a creare come prima la pallina della, come si dice, della punta del naso. Ripeto, è chiaro che lavorando nel piccolo è tutto molto più difficile, ok? Perché le mani qua non ci stanno. Andiamo a creare la narice, uno, e la narice, due. Dopodiché rifiniamo, ok? Allora, ciao Giuliana, buongiorno! Ok, quindi la forma che vi dicevo prima, queste sono regole che, indipendentemente dal fatto che voi lavoriate sul piccolo, sul grande, dovete assolutamente tenere da conto, mi raccomando, ma ovviamente ci arrivate in maniera leggermente differente. così, andiamo a rifinirlo, ecco, vedete il profilo, pian piano, e pian piano, sempre col pennellino da pittura, e lo vado a risistemare. Tanto il discorso, qual è? Che il pennellino, la pasta di zucchero con questo caldo è morbida, quindi non ho problemi di non riuscire a... a modellarla, ok? Ok. Quindi così, così. Qua possiamo anche tirarla un po' su, questa narice, se fosse troppo grossa, esattamente come abbiamo fatto prima, possiamo andare a rifinirla. così. Ovviamente dovete tenere da conto il fatto che se la pasta è umida, i pennelli scivolano con meno facilità, quindi tenetevi sempre a portata di mano un po' di CMC o un po' di maizena, senza esagerare, perché se esagerate, la pasta vi secca, e se vi secca troppo, poi forma le crepe, non riuscite più a lavorarla, va bene? Quindi, agite sempre poco per volta, tanto ad aggiungerla, ve lo dico sempre, vale quasi per tutto, ad aggiungere, siete sempre in tempo, a levare no, va bene? quindi alziamo un pochino di più la punta, rifiniamo la punta, così, questa narice, vediamolo da sotto, direi che più o meno ci siamo, dobbiamo solo rimpicciolirla un po' qua, ok, va bene ragazzi, quindi, nasino fatto sul piccolo, quindi con una situazione, ovviamente un pochino più difficile, perché non riusciamo bene a lavorare, con le, come si dice, con le mani, va bene? e invece il naso grosso, in cui, su cui ci possiamo permettere, di lavorare più con le mani, che non con gli strumenti, cosa abbiamo fatto oggi? oggi vi ho fatto vedere uno, dei vari metodi che io conosco, per realizzare un naso, sia piccolo che grande, ok? e questo è solo un esempio di quello che, solitamente io vi insegno, durante i miei corsi online, o durante i workshop collettivi, che faccio regolarmente, quindi, se siete interessati a un corso online, o a un workshop, basta che mi iscriviate, mi diciate che cosa vi piacerebbe realizzare, e io sarò ovviamente a vostra, totale disposizione, per vedere di organizzarci, ok? non è necessario avere, nessun tipo di attrezzatura particolare, basta che ovviamente mi contattiate, e sarò ben contenta, di spiegarvi tutto quanto, vi ricordo, che sul nostro canale YouTube, abbiamo già pubblicato, il nostro video quotidiano, oggi è la seconda parte, sui coloranti alimentari, quindi mi raccomando, non perdetevela, B magenta, al nostro canale, iscrivetevi, e se vi piacciono, mi raccomando, condividete i nostri video, in modo che tutti, possano vederli, io sono a vostra disposizione, noi ci vediamo domani, ve l'ho detto, non alle due, non alle due e mezza, ma dopo le tre e mezza, perché io ho un corso, non ce la faccio prima, se avete domande, scrivetemi, Pompea mi ha già chiesto, sulla gomma lacca, quindi domani, vedremo sicuramente, la gomma lacca, oltre a tante nuove, bellissime novità, ragazzi, vi saluto, vi auguro buona giornata, buon proseguimento, baci baci, ciao, ciao!